Musica Dopo due anni di lavoro, il 18 maggio è nata la legge che regolamenta il teatro in Calabria. Un tentativo riuscito di organizzare il settore dal basso, con il contributo dei tanti operatori professionali che operano nella regione e che da anni, come nel caso di Primavera dei Teatri e Festival di Castrovillari sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, fanno vivere il teatro e la Calabria a livello nazionale. Il teatro calabrese infatti è cenerentola, come tante altre realtà della regione, ma ciò che di buono è organizzato c'è dal lustro e deve poter continuare a vivere e contare su regole e risorse certe. Il problema delle risorse è stato tra i punti affrontati durante l'illustrazione della legge da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture, Roberto Musmanno, che ha sostituito il presidente della regione Calabria, Mario Liverio, assente e al centro di una polemica della trasmissione televisiva Leiene proprio sulle risorse spese dalla regione nell'ambito del teatro. Il titolo, dato dall'organizzazione di Primavera dei Teatri al convegno, che ha ospitato numerosi direttori di dipartimenti regionali d'Italia, esperti del settore, è suonato dunque come più che una provocazione. Sistemiamoci, al termine del confronto, su ciò che di buono è stato fatto con la legge e su ciò che dovrà essere fatto per applicarla, ha indicato anche un auspicio. Con il milione di euro già stanziato e le nuove regole, forse è la volta buona che gli spettatori calabresi possano sistemarsi comodamente in poltrona per far vivere seriamente il teatro calabrese, seppure vessato una tra le eccellenze della regione.